quali sono gli elementi che rendono questo mondiale di formula 1 davvero interessante oggi e domani ultimi giorni di vera vigilia ascolteremo il parere di due ex piloti di formula 1 domenica scorsa sulla pista della conca max verstappen figlio dodicenne di joss verstappen ex pilota di formula 1 ha corso e vinto la sua prima prova internazionale di karting al padre abbiamo chiesto un parere sul mondiale che sta per partire con il ritorno di michael schumacher penso che sarà un anno interessante soprattutto per il ritorno di schumacher tutti vorranno vedere cosa succederà penso che sia una cosa positiva che crea interesse sono contento aspetto il prossimo weekend per vedere la prima gara questo il parere di joss verstappen domani sentiremo quello del nostro ivan capelli ciao 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 ciao